Activision ci ha finalmente dato accesso a una prima versione di prova di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Una demo con due livelli molto differenti tra loro, sia nelle meccaniche sia nella presentazione del mondo di gioco, utili per saggiare in piccolo la varietà promessa dagli sviluppatori di Toys for Bob. A questo proposito non è stato confermato il numero preciso dei mondi o dei livelli, ma più volte è stato ribadito che l'offerta sarà in linea con quelle dei tre capitoli precedenti della serie. Il primo livello, Dino Dash, ci vede alle prese con l'era dei dinosauri e la formula è quella classica. Ci sono momenti in cui il livello procede in profondità e altri in cui la visuale passa al 2D. Oscillare tra queste due prospettive sarà una caratteristica ricorrente nel gioco, esattamente come accadeva nei primi tre capitoli originali usati come modello di riferimento. Una novità importante è però rappresentata dalla possibilità di sbirciare in diverse direzioni per vedere cosa si nasconde nelle zone dello schermo non immediatamente visibili. Tuttavia non sarà possibile abusare di questa opzione. I nemici sono abbastanza tradizionali, si passa da coleotteri corazzati volanti a piante carnivore e velenose per poi arrivare all'inseguimento di un tirannosauro in una nuova memorabile sequenza di fuga. Si muore spesso in Crash 4, ci si arrabbia, ma poi si riprende in mano il controller decisi a portare a termine la sfida. Il secondo livello, Snow Way Out, è altrettanto tradizionale. Niente fughe questa volta, ma sessioni platform decisamente old school e parecchio impegnative. Qui si incontrano tanti nuovi nemici, situazioni inedite ed ostacoli progettati ex novo senza stravolgere i canoni della serie. Le nuove maschere conferiranno a Crash e Coco poteri mai visti prima. In Dino Dash era presente la maschera dello spazio, quella azzurra. Questa permette di far sparire alcuni oggetti dall'ambiente circostante, facendone però anche comparire allo stesso tempo altri in un'altra posizione. Mentre si sfreccia tutta birra su una liana, per esempio, si può sfruttare questo potere per far apparire e scomparire gli ostacoli all'occorrenza ed evitare di far schiantare dolorosamente il proprio personaggio. Snow Way Out, invece, offre la maschera del tempo, la cui funzione è scontata. Per alcuni brevissimi secondi tutto procede a rallentatore. L'utilizzo base è ovviamente quello di colpire i nemici senza che questi oppongano resistenza, ma in seguito si può sfruttare per sospendere piattaforme nel vuoto, bloccare mostri giganti oppure rendere visibili alcune casse lampeggianti abbastanza a lungo per poterle colpire. È evidente che le maschere dello spazio e del tempo costituiscano l'innovazione più evidente di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Ancora non siamo in grado di valutare il livello di integrazione nei vari stage, ma la strada sembra quella giusta. Un'altra novità è la possibilità di giocare nei panni del dottor Neo Cortex. In questo modo anche i personaggi secondari vengono coinvolti nelle avventure di quelli principali. Una volta completato un livello con Crash, questo si può rigiocare con il malvagio dottore per scoprire nuovi retroscena della storia. Attenzione, però, non si tratta dello stesso livello nelle stesse sequenze, bensì dello stesso ambiente proposto in sequenze nuove. Un vero e proprio secondo livello, insomma, con nuove difficoltà e nuovi nemici. Lo stesso Cortex propone uno stile di gioco diametramente opposto a quello di Crash. Si procede in modo più ragionato, non si salta o cammina allo stesso modo di Crash, né tantomeno si gira su se stessi. Al contrario, si sfrutta la sua pistola per immobilizzare i nemici e trasformarli in piattaforme gommose, oppure si scatta per una lunga traiettoria orizzontale. Il livello di difficoltà è apparso subito elevato, perfettamente in linea con quello dei primi Crash Bandicoot. Si muore spesso e male, poi si impara e si prosegue. I giocatori più giovani comunque potranno scegliere la modalità moderna, dove Crash Bandicoot possiede vite infinite. Gli amanti della vecchia scuola potranno invece selezionare la modalità retro, con tre vite a disposizione per ogni livello e tanti saluti in caso di morte, quando si deve ricominciare tutto da capo. Crash Bandicoot 4 It's About Time si inserisce con estrema naturalezza all'interno del franchise Activision. La demo provata ci ha convinti pienamente, non vediamo l'ora di mettere le mani sulla versione completa per capire quanti saranno i livelli e quali altre sorprese riveleranno le maschere e la presenza di diversi personaggi secondari. Per fortuna non bisognerà attendere a lungo, la data di uscita è fissata al 2 ottobre 2020 su PlayStation 4 e Xbox One. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per aiutarci a portare sempre più contenuti.